Una vasta circolazione depressionaria centrata tra le isole britanniche e il mare del nord continuerà a pilotare sistemi frontali verso l'Italia fino a domani martedì, mercoledì pressione in temporaneo aumento. In Toscana martedì 13 marzo nuvolosità variabile con addensamenti temporaneamente più consistenti nelle zone interne, dove saranno possibili rovesci o locali temporali, in particolare nel pomeriggio. Venti occidentali deboli o moderati nell'interno, moderati o localmente forti sulla costa centro-settentrionale. Mari mossi bacini meridionali, molto mossi o agitati a largo a nord dell'Elba. Temperature stazionari a un lieve calo nelle zone interne. Sul territorio provinciale, possibilità di deboli piogge alternate a schiarite. A Lucca e nella Piana, temperatura minima 8, massima 14 gradi. A Castelnuovo e zone multane, minima 7, massima 14. A Viareggio e sul litorale, minima 9, massima 15 gradi.